La legge di stabilità 2016 della regione Sicilia prevede numerosi interventi che avranno dei risvolti positivi anche per il territorio di Gera. Lo dice il Partito Democratico e il deputato regionale, il gelese Giuseppe Arancio, è convinto che la finanziaria approvata darà ossigeno immediato. Ci sono 100 milioni per tutta l'isola per le persone in difficoltà con il sistema dei cantieri di servizio, quindi immediatamente nei prossimi mesi saranno avvisati i comuni di fare i progetti. Poi abbiamo risolto il problema che riguarda i consorsi di bonifica sui canoni, sono stati messi 3 milioni di euro per i consorsi di bonifica e i canoni si pagheranno con la modalità del 2015, quindi è scongiurato l'aumento. Poi un'altra refluenza l'avranno tutti i leader del nostro litorale perché non avranno la necessità di chiudere durante l'anno, possono aprire tutto l'anno perché noi abbiamo un clima su 12 mesi, 8-9 mesi buoni, quindi ingreventiamo la possibilità del turismo sia esterno che quell'interno, quindi delle microattività, delle microeconomie che si mettono in moto perché continueranno a svolgere attività di ristorazione, di bar, quindi ci sono persone che la lavoreranno tutto l'anno. Poi per gli RMI c'è una cosa importantissima, il fatto che la fuoriuscita, che in molti sono che l'hanno richiesta, la regione farà una convenzione con una banca, quindi i soldi li anticiperà la banca e tutti quelli che hanno fatto domanda potranno fuoriuscire facilmente. Ecotassa e zona traffico limitato, il capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotta. Il Partito Democratico associerà tutte quelle iniziative all'interno del Consiglio Comunale affinché il Comune di Gerasi tolte di un nuovo piano di interventi nell'ambito del rifiuto e che vada ad incrementare la sostenibilità della corte differenziata, che differenzia risparmia, che non differenzia ormai, diciamo, paga l'ecotassa. Tutti i Comuni si dovranno dotare ora di un regolamento apposito che vada a disciplinare le zone a traffico limitato. E' un punto importante che vorrei comunicare alla città, anche perché in passato l'orevole arancio sul mio suggerimento ha presentato un disegno di legge apposita, è quello che la nomina del revisore dei conti negli enti locali, d'ora in poi avverrà medante sorteggio all'interno dei Consigli Comunale, non più ci sarà una nomina politica, come è venuto fino ad ora. Il Partito Democratico di Gera, preseduto da Claudia Caizza, ha un obiettivo, intervenire soprattutto sulle fasce deboli. Il segretario cittadino Peppe Di Cristina. Anche in una situazione complessa, come era questa finanziaria, anche in una questione di difficoltà oggettiva, non bisogna dimenticare i più deboli. E aggiungo, fra poco noi presenteremo un documento fuori dalla finanziaria in cui cominceremo a pensare anche a quelli che in questa città soffrono e magari non votano. Penso per esempio ai ragazzi che non vanno a scuola, visto che apprendiamo che c'è una dispersione scolastica altissima, penso a coloro i quali il lavoro non ce l'hanno e penso a quelli che vivono una difficoltà oggettiva, perché la nostra è un'identità di sinistra, un'identità che non vogliamo abbandonare, anzi rafforzare.